E benvenuti allo stadio Iacobone di Carasso, per la partita Simbottiglio-Vamosenborg, stadio pieno in ogni ordine di vostro, partita emozionante e trizzante già dagli inizi, arbitra l'arbitro Bamboccioni della sede di Ivernia. Passiamo la parola a Senna Bruno, vai! Sì, salve, questa partita valida per la Supercoppa Italiana-Goloba l'undici, vediamo partire il giocatore numero 72, Gaggio Elettro-Sedato, sono alle ore 15, ricordiamo, parte, parte, ancora lui, scarsa due uomini, siamo arrivati alle ore 19 e siamo a malapena a metà campo. Questa partita continua così lunga, va il tiro, va il finale! Ricordiamo le tifiche due, il nostro risultato! Oh, bollettita!